qui stiamo filmando la figura di niente di Aldo d'Orso che grande figura di niente continuiamo a vedere la figura di niente di Aldo d'Orso questo va tutto certificato e videoregistrato vada vada faccia un'altra figurella Aldo ci apprezziamo a fine ospitale ti spezzi una clavicola, una costola tutto certificato e videoregistrato eccola lì ancora una volta figuraccia a me c'è una capa tosse la marice la frena ancora una volta sembra quasi quasi un milanista o un giuventino no no, sembra quasi quasi un napoletano poi c'è tutte le nariche da fuori il bello, il bello, il bello anale eccolo lì olè, a sta fama navigata la legge però fa sempre una pessima figuraccia mi dica, mi dica, come allenatore lei cosa dice? è proprio pena voto 0,01 la pagella del processo lunedì senza voto rimandato a settembre a settembre, anche in generale, anche in capoggio e noi ce la spassiamo qui sulla spiaggia di Cefalù vedete tutti a quattro di bastone a prendere il sole è un buon scimmio da fare un rivoluzionario subcomandante anche lui Rossella commento di questa giornata è stata bellissima è stata bellissima un po' stancante è un po' stancante è un po' stancante il professore volano è molto severo mamma mia, veramente un po' stancante un po' stancante signora è severo? è severo? bambino state d'accordo poi tu, poi tu, poi tu vedi un parere boh è severo? un parere molto chiaro e stringato venga, venga è finita è finita c'è la palla al mare Aldo Torso ha la palla al mare commentate voi senza commento adesso Aldo Torso è senza palla no 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 senza voi la palla senza quella palla io ho detto che appella la capo che ho di sanora è l'Italia sì no ma noi non mangiamo le caramelle noi vendiamo solo le palle le vendiamo Antonino che parla a telefono che? si arrabbia Antonino bella giornata ciao bella giornata grazie a tutti